Un appuntamento che Scilla non può mancare, ovviamente un convegno di professionisti. Quali sono le novità in campo cardiologico? Le novità di questa 19esima edizione di Scilla Cuore, che è diventato un riferimento importante per la cardiologia italiana, passano attraverso alcune novità che hanno un po' destato una certa rilevanza nello scenario cardiologico internazionale e in particolare ad esempio la sostituzione valvolare per via percutanea che da più di dieci anni viene effettuata in Europa e nel mondo, ma mentre prima aveva delle indicazioni nei pazienti ad alto rischio e non operabili che il chirurgo rifiutava, adesso la indicazione si è abbassata e si è stesa ai pazienti ad basso rischio e a basso gradiente, per cui in condizioni non di gravità. Questo è stato sancito dal nuovo studio, il Partners 3, presentato a New Orleans recentemente all'American College of Cardiology e questa è una novità assoluta. Un'altra novità assoluta è che oggi fa ingresso nell'emodinamica oltre che strutturale nell'emodinamica coronarica la robotica, ovvero quello di intervenire nella rivascolarizzazione coronarica non con i cateteri come venivano intesi in epoca in cui viene tuttora effettuata la rivascolarizzazione miocardica, ma utilizzando la robotica che quindi si estende anche alle coronarie, mentre prima era appannaggio delle vie urinarie, come gli urologi usano la robotica per intervenire sui carcinoma, ad esempio nella ricanalizzazione a livello prostatico. Altre novità si è dibattuto ieri sulla importanza del fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta in Italia porta alla mortalità di circa 80-90 mila morti all'anno, è come se ogni giorno in Italia cadesse un aereo con 250 persone a bordo, circa 246 infatti sono i morti ogni giorno in Italia che causa il fumo di sigaretta e pensare che tra questi 90 mila, 70 mila muoiono per malattie cardiovascolari e 20 mila muoiono per malattie tumorali. Questo quindi è un argomento molto dibattuto perché va sviluppato anche nelle scuole, perché l'età media in cui i giovani iniziano a fumare è intorno ai 13-14 anni, quindi in epoca scolare. E quindi la comunità scientifica deve assolutamente divulgare queste informazioni affinché vengano recepiti, oltre che dalla famiglia, anche delle scuole, al fine di portare avanti una educazione sanitaria e un vero progetto antifumo che si deve tradurre anche in termini di tutela della salute pubblica. Un'altra novità che entra sempre all'interno del convegno è quella del prezioso bergamotto. Bene, ho avuto occasione di parlare anche di bergamotto, questo agrume reggino, che svolge importanti azioni, in particolare quella di ridurre i livelli di colesterolemia e non solo, ma anche dei trigliceridi e della glicemia. È un agrume ricco in delle sostanze antiossidanti che vengono chiamati polifenoli e che a differenza di altri agrumi, anch'essi importanti, hanno messo in evidenza questa peculiare attività proprio di blocco della sintese del colesterolo e quindi si comportano come una statina naturale. Ma altri effetti il bergamotto ha, nel senso che per l'azione antiossidante neutralizza alcune alterazioni che sono frequentemente presenti nella popolazione diabetica e sono il 6% della popolazione generale. Il diabete colpisce circa 4 milioni di italiani e quindi questa popolazione è più ad alto rischio. Ed ancora un'azione sperimentalmente dimostrata, antiproliferativa, e quindi ha uno sbocco anche di tipo scientifico notevole, soprattutto nel campo dello spessimento mio-intimale a livello carotideo di quelle alterazioni strutturali dei vasi che stanno alla base del processo atrosclerotico. Quest'anno a Scillacuore ci sono molti delegati provenienti da tutta Italia, circa 250 delegati prevalentemente del nord e una facoltà di oltre 130 relatori. Tutti di primo ordine, professori, direttori di cattedra universitari, di scuole di specializzazione. Peraltro anche l'Università di Tirana Albanese ha voluto patrocinare questo importante evento scientifico riconoscendo anche a me un ruolo importante nel fatto che io svolgo anche l'attività di docente presso la Facoltà di Medicina all'Università di Tirana. Dal punto di vista strutturale, Scillacuore, sono presenti 19 simposi sui temi più dibattuti della cardiologia moderna e circa 12 letture che sono stati affidati a importanti relatori di grande esperienza e di grande statura cardiologica che hanno svolto e svolgeranno con grande maestria e competenza gli argomenti loro affidati.